Per poter migliorare l'outlook per cittadini e imprese bisogna conoscere i progetti, bisogna conoscere le buone pratiche, quindi prima di tutto mette in comune, diffonde e fa conoscere le buone pratiche. Poi c'è uno spirito di emulazione positivo e soprattutto è solo l'inizio, cioè il premio non è la fine del percorso, è l'inizio di un nuovo percorso in cui vi sia maggiore purpose, maggiore senso del valore pubblico e ci sia un ownership da parte delle pubbliche amministrazioni e prendersi carico dei progetti per migliorare i servizi per cittadini e imprese.